Ma io no, perché faccio tante maschere, non le abbiamo le soviette, ma mi faccio davvero tante maschere e quindi in questo modo non si rovinano. No, basta il consenso dei genitori e ovviamente chiedono il documento. E basta. Ho usato questa, solo che è la parte prima. Dopo si appiccicano ancora di più, perché queste qua sono appiccicose. E' l'ombelico, il piercing. No, però sento squillare. Vorresti fare dei tatuaggi? Ovviamente... Ovviamente ora no. Però magari a 18 anni ci posso pensare. Mi piacerebbe molto quella... tutta una scritta per la spina dorsale. Quello è molto bello. Però dicono che tipo causa problemi, è vero. Qualcuno che ce l'ha? Sto inizio è dall'inizio dell'anno che prova a vincere sci. Simone o Simone? Mia figlia di 14 anni deciderà... Da maggiorenne... C'è bisogno di raggiungere i limiti a questa età. Sì, sono tua figlia ma non mia. Duesima. E mi trasferò il tuo nome. Non funziona bene. Grazie. Non l'isola bene sotto. C'è Roma come mettiti l'impasto sopra così ti esci per sotto? Ecco. Ok, ciao. Se dovrai un futuro... Puoi fare... Aspettate... Io ce l'ho e sinceramente non ho niente problema. Ok. Che dicono? Non puoi fare il parto cesare. Vabbè, Tini, su questo non è fatta bene. Eh sì, tantomeno devo fare giusto. Vabbè, non mi importa del parto. Ma perché poi? Cioè, cosa comporta? No, non lo so, non chiedermi perché non è fatta. Cioè, stesso l'inchiostro. Se Fia Unicanno ha un fratello... Più grande. Ti chiedono di vedere le unghie? Sì. Come è stata mamma? Non benissimo, ragazzi. Stasera non so dove mangiare. Non lo so ancora. Comunque dovete sapere che a me... Prima, cioè all'inizio, quando avevo iniziato a mangiare McDonald's, mi piaceva tantissimo. Ah. Mi piaceva tantissimo. Poi... Mo non mi piace più. Cioè, se tipo mi dite, andiamo a mangiare a McDonald's. Io prima, cioè, mi piaceva tantissimo. Mo... Non mi piace più. Cioè, mi trova meglio di no. No, vabbè, ma il piercing si può anche togliere, non è che penso. Qui il tatuaggio, che ovviamente non è che... Cioè, non lo farei mai a queste età, perché sicuramente cambierò idea. Sì, sono la mamma. La tua fratella è gelosa. Sì. Tantissimo. Eh. Ci dovrò fare risonanze magnetiche. Si toglie se la fa la risonanza? No, il tatuaggio. Ah, il tatuaggio. Che mi voglio fare io sulla spina dorsale. Ah, ok, ok. Di però che porterà problemi se mi voglio fare le risonanze magnetiche. Sicuramente... Mmm... Io eviterei. Cioè, a me piace tantissimo. No, mo... Vi parlo di mo. Io lo farò... Penso più a 18 anni, se mi piacerà ancora. Ma non so neanche se mi piacerà. Ma se tu mi hai 18 anni è presto per fare un tatuaggio. Quanti anni l'hai fatto? Eh, perché dopo cambi idea. Per esempio... Quanti anni l'hai fatto? Io ne avevo 19, 20, 18... Eh, ma sai che io mi sono pentita? E chi te dice che mi devo pentire? Perché ancora sei piccola. Grazie per il cuore. Ma è mio fratello? Sì. Ancora non si hanno i gusti ben...